Leo. Leo non voleva uscire dal muro. Aveva ancora tre puntelli da fissare e nessun altro era così magro da riuscire a entrare in quello spazio angusto, uno dei molti vantaggi dell'essere smilzi. Lì, infilato nell'intercapedine dello scafo in mezzo a cavi elettrici e tubi idraulici, poteva restare solo con i suoi pensieri. Quando si sentiva frustrato, ovvero più o meno ogni cinque secondi colpiva qualcosa con la mazza e gli altri membri dell'equipaggio pensavano che stesse lavorando e non dando di matto. L'unico problema del suo rifugio. Riusciva a entrarci soltanto fino alla vita. Sedere e gambe restavano sotto gli occhi di tutti, il che rendeva impossibile nascondersi. Leo. La voce di Piper proveniva da qualche parte alle sue spalle. Abbiamo bisogno di te. La guarnizione di bronzo celeste gli sfuggì dalle pinze e scivolò nelle profondità dell'intercapedine. Leo sospirò. Parla con i miei pantaloni, Piper. Ho le mani occupate. Te lo scordi. Ti aspettiamo immensa. Siamo quasi a Olimpia. E va bene. Arrivo fra un secondo. Che stai facendo a proposito? Sono giorni che armeggi dentro lo scafo. Leo fece scorrere la torcia sulle placche e i pistoni di bronzo celeste che aveva installato un po' alla volta pian piano, ma con grande perizia. Manutenzione di routine. Silenzio. Piper era troppo brava ad accorgersi quando mentiva. Leo. Ehi, già che sei lì, fammi un favore. Ho prurito proprio sotto al... E va bene, vado. Leo si prese ancora qualche minuto per fissare meglio il puntello di rinforzo. Il lavoro non era ancora finito. Era ancora ben lontano dall'esserlo. Ma stava facendo progressi. Naturalmente, aveva posto le basi del suo progetto segreto fin da quando aveva costruito Largo 2, ma non ne aveva parlato con nessuno. Lo aveva messo a stento con se stesso. Niente dura per sempre, gli aveva detto una volta suo padre. Nemmeno le macchine migliori. Già, ok, forse era vero. Però Efesto aveva anche detto... Tutto si può riutilizzare. E Leo voleva mettere alla prova questa teoria. Era un rischio molto grosso. Se avesse fallito sarebbe rimasto schiacciato. Non solo emotivamente, ma fisicamente. Si sentì mancare l'aria solo all'idea. Strisciò fuori dall'intercapedine e tornò nella sua cabina. Beh, tecnicamente era la sua cabina, ma non dormiva lì. Il materasso era in gombro di cavi, chiodi e ingranaggi di varie macchine di bronzo smontate. I suoi tre massicci armadi degli attrezzi con le ruote, Cico, Arpo e Graucio, occupavano la maggior parte dello spazio. Decine di utensili elettrici erano appesi alle pareti. E sul tavolo da lavoro erano mucchiate pile di fotocopie di sulle sfere. Il testo perduto di Archimede che Leo aveva sgraffignato in un'officina sotterranea a Roma. Anche se avesse voluto dormire nella sua cabina, sarebbe stato un po' soffocante, oltre che pericoloso. Preferiva camparsi nella sala motori, dove il ronzio costante delle macchine lo aiutava ad addormentarsi. E poi, dopo il periodo trascorso sull'isola di Ogigia, un rotolo di coperte steso a terra era tutto ciò di cui aveva bisogno per riposare. Così, usava la sua cabina solo come magazzino e come officina per lavorare ai progetti più difficili. Tirò fuori le chiavi dalla cintura degli attrezzi. Non ne aveva il tempo, lo sapeva, ma aprì lo stesso il cassetto centrale di Graucio e scrutò i due oggetti preziosi che conteneva. Un astrolabio di bronzo che aveva raccolto a Bologna e un pezzo di cristallo grande come un pugno che aveva preso a Ogigia. Non aveva ancora capito come metterli insieme, e la cosa lo stava facendo impazzire. Aveva sperato di ottenere qualche risposta a Itaca. Dopotutto era la patria di Odisseo, o Ulisse che dir si voglia, il tizio che aveva costruito l'astrolabio. Ma a giudicare dai racconti di Jason, le rovine non custodivano risposte, solo un branco di spettri e ghoul dal pessimo carattere. Comunque, Odisseo non era mai riuscito a far funzionare l'astrolabio. Non aveva un cristallo da usare come radio faro. Lui invece sì, e sarebbe riuscito, laddove il semidio più astuto di tutti i tempi aveva fallito. Certo però, la sua solita fortuna, una bellissima ragazza immortale lo stava aspettando a Ogigia, e lui non riusciva a capire come collegare uno stupido pezzo di roccia a quello strumento di navigazione vecchio di tremila anni. Per certi problemi non bastava il nastro adesivo. Leo chiuse il cassetto e girò la chiave. Spostò lo sguardo sulla bacheca sopra il tavolo da lavoro, dove erano appese due immagini, una di fianco all'altra. La prima era il vecchio disegno che aveva fatto a sette anni con le matite colorate, il progetto di una nave volante che aveva visto in sogno. Il secondo era uno schizzo a carboncino che Hazel aveva realizzato da poco apposta per lui. Hazel Leveque. Quella ragazza era speciale. Non appena Leo aveva raggiunto gli altri a Malta, lei aveva capito subito che c'era qualcosa che gli rodeva dentro, e alla prima occasione, dopo tutto il macello alla casa di Ade, si era presentata nella sua cabina e aveva detto decisa, vuota il sacco. Hazel era una buona ascoltatrice. Leo le aveva raccontato tutta la storia. Più tardi, quella stessa sera, Hazel era tornata con il suo blocco da disegno e i carboncini. Descrivimela, aveva insistito, in ogni dettaglio. Era stato un po' strano aiutare Hazel a fare un ritratto di calipso, un po' come descrivere qualcuno a un poliziotto per realizzare un identikit. Sì, agente, è lei la ragazza che mi ha rubato il cuore. Santi Numi, sembrava il testo di una di quelle canzoni pop sdolcinate. Ma descrivere calipso era stato facile. Gli bastava chiudere gli occhi e se la ritrovava davanti. Ora, il ritratto ricambiava il suo sguardo dalla bacheca. Gli occhi a mandorla, la bocca un po' imbronciata, i capelli lunghi e lisci posati su una spallina della veste senza maniche. Gli pareva quasi di sentire il suo profumo di cannella. La fronte aggrottata e la piega delle labbra sembravano dirgli «Leo Valdés, sei un gran fanfarone!» Cavoli si era innamorato. Aveva appeso il ritratto accanto al disegno del Largo 2, per rammentare a se stesso che le visioni a volte diventavano realtà. Da bambino aveva sognato una nave volante. E alla fine l'aveva costruita. Ora avrebbe costruito un modo per tornare da calipso. Il ronzio dei motori a un tratto si fece acuto. Dagli altoparlanti della cabina la voce di Festus cigolò. «Sì, grazie, bello», disse Leo. «Arrivo». La nave si stava abbassando di quota e questo significava che i suoi progetti personali dovevano aspettare. «Tieni duro, raggio di sole», disse alla calipso del ritratto. «Tornerò da te, come promesso». Gli sembrò di sentire la sua risposta. «Io non ti sto aspettando, Leo Valdés. Io non sono innamorata di te. Soprattutto non credo alle tue stupide promesse». Sorrisi all'idea. Rimise le chiavi nella cintura e si diresse immensa. Gli altri semidei stavano facendo colazione. Un tempo Leo si sarebbe preoccupato al pensiero che non ci fosse nessuno al timone, dato che erano tutti sotto coperta, ma da quando Piper aveva risvegliato in modo permanente Festus con la sua lingua ammagliatrice, un'impresa che per lui restava un mistero, il drago Polena era più che capace di condurre l'argodue tutto da solo. Festus poteva navigare, controllare il radar, preparare un frullato in mirtilli e sputare fiammati incandescenti contro i possibili invasori, tutto in contemporanea, senza perdere neanche una rotella. E poi Buford, il tavolino delle meraviglie, gli copriva le spalle. Dopo che il coach Edge era partito per il suo viaggio nell'ombra, Leo aveva deciso che il tavolino a tre gambe avrebbe sostituito alla grande il loro chaperon adulto. Aveva rivestito il ripiano con una pergamena magica che proiettava un ologramma in miniatura del coach. Così adesso Mini Edge camminava impettito sopra il tavolino, urlando a casaccio cose tipo «Piantatela!» oppure «Faccio una strage!» e il classico «Vestiti scostumato!» Quel giorno Buford era al timone. Se le fiamme di Festus non fossero bastate a spaventare i mostri, Mini Edge ci sarebbe riuscito di sicuro. Leo rimase sulla soglia della mensa a godersi la scena attorno al tavolo. Non capitava spesso di vedere tutti i suoi amici insieme. Percy stava divorando una pila enorme di pancake azzurri. Quel ragazzo aveva proprio una fissa per il cibo azzurro, mentre Annabeth lo rimproverava perché ci aveva versato sopra troppo sciroppo d'acero. «Così li anneghi!» si lamentava. «Ehi, sono il figlio di Poseidone!» replicò lui. «Non posso annegare! E nemmeno i miei pancake!» Alla loro sinistra, Frank e Hazel usavano le loro ciotole di cereali per mantenere distese una mappa della Grecia. La scrutavano, con le teste vicine. Ogni tanto Frank appoggiava la mano sopra quella di Hazel, un gesto dolce e naturale da vecchia coppia sposata. E Hazel non sembrava nemmeno in imbarazzo. Un vero progresso per una ragazza degli anni quaranta. Fino a poco tempo prima, se qualcuno si azzardava in precare con un «Oh, maledizione!» c'era il rischio di vederla svenire, o quasi. A capotavola, Jason si teneva la maglietta sollevata, con evidente disagio, mentre l'infermiera Piper gli cambiava le vende. «Sta fermo!» ordinò. «Lo so che fa male. Fa soltanto un po' freddo», disse lui. Leo però si accorse del suo tono sofferente. Quello stupido Gladius lo aveva attraversato da parte a parte. La ferita d'ingresso della lama sulla schiena era di un brutto colore violaceo e mandava fumo. Non sembrava un buon segno. Piper si sforzava di mantenere un atteggiamento positivo, ma in privato gli aveva confidato quanto fosse preoccupata. Il nettare, l'ambrosia e la medicina dei mortali avevano i loro limiti. Una ferita profonda, inferta con un'arma di bronzo celeste o di oro imperiale, poteva letteralmente dissolvere l'essenza di un semidio dall'interno. Jason forse stava migliorando e diceva di sentirsi meglio, ma Piper non ne era così sicura. Peccato che Jason non fosse un automa di metallo. In quel caso Leo avrebbe saputo come aiutarlo. Ma con gli esseri umani si sentiva inerme. Si rompevano troppo facilmente. Voleva bene ai suoi amici. Avrebbe fatto qualunque cosa per loro. Però mentre li guardava tutti e sei, tre coppie concentrate su se stesse, gli tornò in mente l'avvertimento di Nemesis, la dea della vendetta. Sarai sempre l'escluso, la settima ruota del carro. Non troverai posto in mezzo ai tuoi fratelli. Stava cominciando a pensare che Nemesis avesse ragione. Ammesso di vivere abbastanza a lungo, ammesso che il suo folle piano segreto funzionasse. Il suo destino era con qualcun altro, su un'isola che nessuno trovava mai per la seconda volta. Per il momento, tuttavia, la cosa migliore era tenersi alla sua saggia e vecchia regola. Andare avanti. Non lasciarsi frenare. Non pensare alle cose negative. Sorridere e scherzare anche quando non ne aveva voglia. Soprattutto quando non ne aveva voglia. Come va, ragazzi? Entrò nella stanza. Oh, e vai! Ci sono i brownie! Aguantò l'ultimo. Una ricetta speciale al sale marino che a Fros, l'ittio centauro, aveva insegnato loro sul fondo dell'Atlantico. L'altoparlante cicolò. Il mini hedge di Buford strillò. Vestiti scostumato! E tutti sobbalzarono. Hazel saltò a un metro di distanza da Frank. Jason si tirò subito giù la maglietta e Frank si trasformò in un bulldog. Fyper fulminò Leo con lo sguardo. Non dovevi liberarti di quello stupido ologramma? Ehi, Buford voleva solo augurarci il buongiorno. Adora il suo ologramma. E poi sentiamo tutti la mancanza del coach. Per non parlare di Frank. Sei molto carino in versione bulldog. Frank si ritrasformò in un massiccio cino-canadese dall'aria un po' scontrosa. Siediti, Leo. Dobbiamo parlare. Leo si infilò fra Jason e Hazel, gli unici che forse avrebbero tollerato le sue battutacce senza rifilargli una sberla. Staccò un morso del suo brownie e prese un pacchetto di patatine al formaggio, tanto per bilanciare meglio la colazione. Aveva sviluppato una specie di dipendenza da quella roba dopo che le aveva scoperte a Bologna. Allora... Jason contrasalì quando si sporsi in avanti. Resteremo in volo e getteremo l'ancora il più possibile vicino a Olimpia. Dobbiamo addentrarci nell'entroterra più di quanto vorrei. Sono più o meno otto chilometri, ma non abbiamo molta scelta. Secondo Giunone, dobbiamo trovare la dea della vittoria e... sottometterla. Un silenzio imbarazzato calò attorno al tavolo. Con le nuove tende che coprivano le pareti olografiche, la mensa era più buia e cupa di quanto avrebbe dovuto. Ma era inevitabile. Da quando i cercopi, i due nani gemelli, avevano mandato in cortocircuito le pareti, le immagini in diretta del campo mezzosangue spesso svanivano con un ronzio, lasciando il posto a primi piani molto ravvicinati dei nani, barba rossa, naso bitorzoluto e denti storti. Non era uno spettacolo molto edificante quando cercavi di mangiare o di condurre una conversazione seria sul destino del mondo. Persi beve un sorso di sciroppo al gusto di succo d'arancia. Sembrò trovarlo di suo gradimento. Per me non c'è problema a combattere contro qualche divinità di tanto in tanto, ma Niche non è una dei buoni. Cioè, a me personalmente la vittoria piace, anzi la adoro. Anna betta tamburellò le dita sul tavolo. In effetti sembra strano, però non mi stupisce che Niche sia Olimpia, patria delle Olimpiadi. I contendenti facevano sacrifici in suo onore. Greci e romani l'hanno adorata per... quanto? 1200 anni, giusto? Quasi fino alla fine dell'impero romano, confermò Frank. I romani la chiamavano vittoria, ma fa lo stesso. Tutti l'amavano. A chi non piace vincere? Non capisco perché dovremmo sottometterla. Jason si acciliò. Un ricciolo di fumo salì dalla ferita sotto la sua maglietta. Io so solo che... il gulantino ha detto che... a Olimpia vittoria è fuori da ogni controllo. E Giunone ci ha avvisati che il conflitto fra greci e romani non potrà mai essere sanato se non sconfiggiamo la vittoria. Ma come si sconfigge la vittoria? si chiese Piper. Sembra uno di quegli enigmi insolubili. Si. Come far volare i sassi, commentò Leo. O mangiare una sola patatina al formaggio. Se ne lanciò una manciata in bocca. Hazel ricciò il naso. Quella roba ti ammazzerà. Vuoi scherzare? Con tutti i conservanti che ci sono vivrò per sempre. Ma ehi, a proposito di questa dea della vittoria sempre così fantastica e popolare, non ve li ricordate i suoi figli al campo mezzosangue? Hazel e Frank non c'erano mai stati, ma gli altri annuirono seri. Giusta osservazione, disse Percy. I ragazzi della casa 17 sono super competitivi. Quando giochiamo a caccia alla bandiera sono quasi più insopportabili dei figli di Ares. Senza offesa, Frank. Frank si sposa Annabeth. Non rifiutano mai una sfida. Devono essere i primi in tutto. E se la loro madre è altrettanto competitiva... Cavoli. Piper appoggiò le mani sul tavolo come se la nave stesse oscillando. Ragazzi, tutti gli dei sono divisi e combattuti nel loro doppio aspetto greco e romano, giusto? Se è così anche per Nike, considerato che lei è la dea della vittoria... Sarà molto, molto disturbata, concluse Annabeth. Ciascuno dei suoi due aspetti vorrà vincere sull'altro. Starà letteralmente lottando contro se stessa. Hazel fece scorrere la sua ciotola di cereali sopra la mappa della Grecia. Ma noi non vogliamo che nessuno dei due lati prevalga sull'altro. Vogliamo che Greci e Romani formino una sola squadra. Forse è questo il problema, osservò Jason. Se la dea della vittoria è fuori controllo, divisa fra Greci e Romani, forse renderà impossibile riunire i due campi. E come? Chiese Leo. Con una guerra di messaggi incrociati su Twitter? Percy infilzò il coltello nella sua pila di pancake. Forse è come Ares. A lui basta entrare in una stanza affollata per far scoppiare una rissa. Se Nicky irradia un'influenza competitiva o roba del genere, potrebbe aggravare parecchio la rivalità greco-romana. Frank indicò Percy. Ti ricordi quel vecchio dio del mare ad Atlanta, Forco? Disse che i piani di Gea hanno sempre molti strati. Questo potrebbe far parte della strategia dei giganti. Mantenere i due campi divisi. Mantenere gli dèi divisi. Se è così, non possiamo consentire a Nicky di metterci gli uni contro gli altri. Dobbiamo mandare a terra una squadra di quattro semidei, due greci e due romani. Così forse riusciremo a mantenere anche lei in equilibrio. Ascoltando Frank, Leo ebbe una specie di reazione di sorpresa a scoppio ritardato. Non riusciva a credere quanto fosse cambiato nelle ultime settimane. Frank non era soltanto più alto e più robusto. Era anche più sicuro, più disposto ad assumersi responsabilità. Forse perché il pezzo di legno magico e infiammabile da cui dipendeva la sua vita adesso era conservato in un sacchetto ignifugo. O forse perché aveva comandato una legione di zombie ed era stato promosso pretore. Fatto sta che Leo non riusciva più a considerarlo lo stesso ragazzone imbranato che una volta era riuscito a liberarsi dalle manette cinesi trasformandosi in un iguana. Penso che Frank abbia ragione, disse Annabeth. Una squadra di quattro. E dobbiamo scegliere con attenzione chi di noi andrà. Non vogliamo fare nulla che possa rendere la Dea ancora più... instabile. Vado io, disse Piper. Posso provare con la lingua magliatrice. Lo sguardo di Annabeth si incubì. Questa volta no, Piper. Nike è molto competitiva. E Afrodite... anche, a modo suo. Nike potrebbe considerarti una minaccia. Una volta, Leo ci avrebbe scherzato su. Piper una minaccia. Quella ragazza era come una sorella per lui. Ma se mai avesse avuto bisogno di aiuto per sconfiggere una banda di teppisti o sottomettere la Dea della Vittoria, lei non sarebbe certo stata la sua prima scelta. Negli ultimi tempi, però... beh, il cambiamento di Piper forse non era evidente come quello di Frank, ma era cambiata, sì. Aveva pugnalato Chione, la Dea della Neve, in pieno petto. Aveva sconfitto i Boreadi. Aveva sbaragliato un intero stormo di arpie selvatiche tutto da sola. E quanto alla sua lingua magliatrice. Ormai era così potente che a Leo faceva quasi un po' paura. Se gli avesse ordinato di mangiare le verdure, forse lo avrebbe addirittura fatto. Piper non sembrò turbata dalle parole di Annabeth. Si limitò ad annuire e studiò gli altri con lo sguardo. Chi ci andrà allora? Percy e Jason insieme non è il caso, disse Annabeth. Giove e Poseidone... pessima combinazione. Nick potrebbe mettervi l'uno contro l'altro molto facilmente. Percy le rispose con un sorriso sghembo. Già, non possiamo permetterci un altro incidente come in Kansas. Potrei farti fuori, bello. O potrei ammazzarti io, amico, replicò Jason amabilmente. Come volevasi dimostrare, commentò Annabeth. Neanche io e Frank possiamo andare insieme. Marte e Athena sarebbe la stessa cosa. E va bene, intervenne Leo. Allora andiamo io e Percy per i Greci e Frank e Hazel per i domani. Non è la squadra meno competitiva della storia? Annabeth e Frank si scambiarono uno sguardo da divinità della guerra. Potrebbe funzionare, decise Frank. Nessuna combinazione sarà mai perfetta, ma Efesto, Poseidone, Marte e Plutone... non vedo troppo antagonismo in circolazione. Hazel fece scorrere il dito sulla mappa della Grecia. Ancora mi dispiace che non siamo potuti passare per il golfo di Corinto. Speravo di visitare Delfi, di chiedere un consiglio. E poi abbiamo scelto la rotta più lunga, attorno al Peloponneso. Già. Leo ebbe un tuffo al cuore quando vide quanta strada restava da fare. Siamo già al 22 luglio. Contando oggi mancano solo dieci giorni a... Lo so, lo interruppe Jason. Ma Giunone è stata chiara. La via più breve sarebbe stata un suicidio. E quanto a Delfi? Piper si sporse a guardare meglio la mappa. La penna azzurra dell'arpia ondeggiò fra i suoi capelli come un pendolo. Che sta succedendo da quelle parti? Se Apollo non ha più il suo oracolo? Per si sbuffò. Probabilmente c'entra quello psicopatico di Ottaviano. Forse era talmente pessimo a predire il futuro che alla fine ha rovinato i poteri di Apollo. Jason riuscì a sorridere, anche se i suoi occhi erano incupiti dal dolore. Speriamo di riuscire a rintracciare Apollo e Artemide. Così potrei chiederglielo di persona. Giunone ha detto che i gemelli potrebbero essere disposti ad aiutarci. Abbiamo un sacco di domande senza risposta, brontolò Frank. E un sacco di strada da fare prima di arrivare ad Atene. Una cosa alla volta, disse Annabeth. Innanzitutto, voi ragazzi dovete trovare Nike e scoprire come sottometterla. Qualunque cosa Giunone intendesse dire. Ancora non capisco come si faccia a sconfiggere una dea che controlla la vittoria. Sembra proprio impossibile. Leo cominciò a sorridere. Non riusciva a trattenersi. Certo, avevano solo dieci giorni per impedire ai giganti di risvegliare Gea. Certo, correva il rischio di morire prima di cena. Ma adorava sentirsi dire che qualcosa era impossibile. Era come se gli porcessero una torta alla panna e gli dicessero di non lanciarla. Non riusciva a resistere alla sfida. Questo lo vedremo. Si alzò in piedi. Vado a prendere la mia scorta di granate. Ci incontriamo sul ponte, ragazzi.